Ah, finalmente qualche giorno è via da casa. Giovanni! Giovanni, torniamo indietro! Ho dimenticato il gas acceso! Non ti preoccupare. Come non ti preoccupare? Potrebbe succedere un incendio. Non ti preoccupare, ho lasciato aperto il lavandino. Ah, non presto sarò in tre. Davvero? E quando? Davvero, domani mattina alle sei dovrei andare a prendere mia madre in stazione. Lo sai, caro, che il dottore mi ha consigliato di andare un mese in armare, un mese in montagna e un mese in collina. Caro, dove mi stai portando? Da un altro dottore. Beh, non ci crederai, ma mia moglie è così chiacchierona che quando siamo andati al mare si è pure abbronzata la lingua.